Ciao a tutti, amici del nostro canale. Oggi ho qualcosa di straordinario da condividere con voi, ma prima di immergerci nel cuore del nostro video, vi chiedo un piccolo favore che potrebbe fare la differenza per il nostro canale. Siete pronti a sostenere questa community incredibile? Basta un clic sull'iscrizione e un pollice in su per dimostrare il vostro apprezzamento. Con il vostro supporto, possiamo continuare a creare contenuti che ispirano, divertono e arricchiscono la nostra crescita insieme. Ora, senza perdere altro tempo, entriamo nel vivo di quello che ho preparato per voi oggi. Oggi voglio parlarvi di un tema fondamentale nella nostra vita, qualcosa che va al di là delle sfide quotidiane e che ha un impatto profondo sulla nostra felicità e realizzazione personale, la costruzione di relazioni sane. Le connessioni umane sono il tessuto della nostra esistenza, la linfa vitale che nutre il nostro benessere emotivo e spirituale. In un mondo sempre più veloce e tecnologico, rischiamo di dimenticare l'importanza delle relazioni autentiche e profonde. Ma oggi, insieme, esploreremo come possiamo costruire relazioni sane che ci arricchiscano e ci sostengano nel nostro cammino. Innanzitutto, dobbiamo capire che le relazioni sane iniziano con noi stessi. La conoscenza di sé è il fondamento su cui si erigono connessioni autentiche con gli altri. Chiediamoci chi siamo, cosa vogliamo veramente, quali sono i nostri valori fondamentali. Solo quando siamo in sintonia con noi stessi possiamo costruire connessioni significative con gli altri. Questo non significa essere egoisti, ma piuttosto investire nella nostra crescita personale per essere in grado di contribuire positivamente agli altri. Una volta compresa la nostra identità, dobbiamo imparare ad ascoltare veramente gli altri. La comunicazione autentica è il collante delle relazioni sane. Ascoltare non è solo sentire le parole, ma è anche comprendere le emozioni di chi ci sta di fronte. Mettiamoci nei panni degli altri, sforziamoci di capire il loro punto di vista. Solo così possiamo costruire un ponte che ci collega l'un l'altro, creando un terreno fertile per relazioni durature. La fiducia è un elemento chiave nelle relazioni sane. Costruirla richiede tempo e impegno. Siamo onesti e coerenti nelle nostre azioni, dimostriamo che siamo affidabili. La fiducia è fragile, ma una volta conquistata, diventa la forza che tiene unite le relazioni. Non possiamo sottovalutarne l'importanza se vogliamo connessioni autentiche e durature. Un altro aspetto cruciale è la gestione dei conflitti. Le divergenze sono inevitabili in ogni relazione, ma è la gestione di queste differenze che fa la differenza. Impariamo a comunicare in modo rispettoso anche quando siamo in disaccordo. Trovare soluzioni insieme, anziché combattere l'uno contro l'altro, è il segreto per superare gli ostacoli e rafforzare le connessioni. Infine, cerchiamo di coltivare la gratitudine nelle nostre relazioni. Spesso diamo per scontate le persone intorno a noi, concentrando l'attenzione su ciò che manca invece che su ciò che abbiamo. La gratitudine ci aiuta a riconoscere il valore degli altri e a nutrire il senso di appartenenza. Esprimiamo apprezzamento, riconosciamo gli sforzi degli altri e celebriamo i successi insieme. In conclusione, costruire relazioni sane è un viaggio che richiede impegno costante, autenticità e compassione. Siamo fatti per connetterci, per condividere gioie e dolori. Se investiamo nel nostro sviluppo personale, impariamo ad ascoltarci e ad ascoltare gli altri, costruiamo fiducia, gestiamo i conflitti con saggezza e coltiviamo la gratitudine, possiamo costruire relazioni che durano nel tempo, donando significato e gioia alle nostre vite. Ricordiamoci sempre che, alla fine, sono le relazioni che definiscono la nostra esistenza. Ogni connessione autentica è come un filo d'oro che intrecciamo nel tessuto delle nostre vite. Pensate a un momento in cui avete condiviso una risata sincera con qualcuno, quando avete sentito il calore di un abbraccio amico o quando avete condiviso un momento di vulnerabilità con un essere caro. Questi sono i frammenti preziosi che formano il mosaico delle relazioni sane. Ecco perché vi invito a essere persuasivi con voi stessi nel coltivare questi momenti, a investire tempo ed energie nella costruzione di ponti tra le persone che incrociano il vostro cammino. Immaginate di essere al centro di un giardino, circondati da relazioni che crescono come fiori vibranti. Questo giardino è il vostro mondo emotivo, e ogni persona che vi circonda è una pianta unica, con le sue sfumature di colore e fragranze. Ora, chi di voi non vorrebbe che il proprio giardino sia un luogo in cui prosperano l'amore, la fiducia e la gratitudine? Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo essere architetti consapevoli del nostro giardino emotivo. Piantiamo semi di gentilezza, innaffiamo con la sincerità e diamo spazio alla fiducia per crescere. Quando siamo consapevoli delle nostre azioni, possiamo trasformare il nostro giardino in un luogo in cui le relazioni fioriscono. Ma voglio anche condividere con voi una storia, un racconto zen che riflette la profondità delle relazioni sane. C'era una volta un anziano monaco che viveva in un monastero, circondato da giovani discepoli. Un giorno, uno dei giovani si avvicinò a lui e chiese, Maestro, qual è il segreto per relazioni felici e appaganti? Il saggio monaco sorrise e rispose, Quando incontri qualcuno, offri la tua presenza completa. Non pensare al passato o al futuro, immergiti completamente nel momento presente. Ascolta con il cuore aperto e parla con sincerità. Sarai sorpreso da quanto la tua vita si arricchirà. Questo insegnamento ci ricorda che la chiave per costruire relazioni sane è la presenza consapevole. Quando siamo veramente presenti, siamo in grado di percepire le emozioni degli altri, di comprendere i loro bisogni e di rispondere con autenticità. La consapevolezza ci permette di rompere le barriere che separano le persone, creando connessioni che vanno al di là delle apparenze superficiali. Riflettete su questo racconto zen mentre vi avventurate nel vostro percorso verso relazioni più profonde e significative. Siate persuasi della potenza trasformativa che risiede nelle vostre azioni quotidiane, nei vostri gesti di gentilezza e nell'ascolto attento. Costruite il vostro giardino emotivo con cura e amore, e vedrete fiorire relazioni che porteranno gioia e significato nella vostra vita. Per rendere ancora più tangibile l'importanza di costruire relazioni sane, vi voglio raccontare delle storie reali, esperienze che illuminano il potere delle connessioni umane nella vita di ognuno di noi. Immaginate di essere in un piccolo caffè, dove un gesto gentile può trasformare il vostro giorno. Un giovane barista, di fronte a una cliente che sembrava un po' triste, ha deciso di scrivere un messaggio positivo sulla tazza di caffè. Il messaggio diceva, hai un sorriso contagioso, fallo brillare oggi. Quel semplice atto di gentilezza ha illuminato il volto della donna, ma ha anche creato un legame effimero, un filo sottile ma potente tra due stranei. Questo ci ricorda che anche le azioni più piccole possono avere un impatto duraturo sulla vita degli altri. E che dire di quei momenti in cui qualcuno ci ha teso la mano nei momenti difficili? Ho sentito parlare di una comunità che si è unita per aiutare una famiglia in difficoltà economica. Ogni membro ha contribuito con il proprio talento o risorsa, creando un tessuto di sostegno che ha permesso a quella famiglia di superare le avversità. Questa storia sottolinea l'importanza di costruire relazioni non solo per i momenti felici, ma anche per quelli difficili. È nel momento del bisogno che il valore delle connessioni si rivela in tutta la sua forza. E poi c'è l'esempio delle amicizie che resistono alla prova del tempo. Due amici d'infanzia, cresciuti, separati dai venti e dalle distanze, ma mai veramente lontani l'uno dall'altro. Anche se le loro vite avevano preso strade diverse, il legame che avevano costruito da bambini è rimasto saldo. Incontrarsi dopo anni è stato come ritrovare un pezzo di sé, una connessione che ha resistito alle sfide del tempo. Questa storia ci insegna che le relazioni autentiche possono attraversare le stagioni della vita, diventando ancor più preziose con il passare degli anni. Vi invito a riflettere su queste storie, a sentire l'emozione di quei momenti che toccano il cuore. Siamo esseri sociali, fatti per connetterci e crescere insieme. Quando costruiamo relazioni sane, non solo apriamo il nostro cuore, ma creiamo una rete di supporto che ci avvolge nei momenti di gioia e ci protegge nelle tempeste della vita. Che queste storie ispirino una consapevolezza più profonda nella vostra vita quotidiana. Ogni incontro, ogni gesto di gentilezza, contribuisce alla trama delle vostre relazioni. Siate persuasi del potere trasformativo che avete nelle vostre mani, e che ogni connessione che coltivate contribuisce a un mondo più ricco di amore, comprensione e significato. Grazie mille per essere stati con noi fino alla fine di questo video. Spero che le idee e le storie condivise vi abbiano ispirato tanto quanto hanno fatto per me. Ora, prima di concludere, vi chiedo un piccolo gesto che può fare una grande differenza, iscrivetevi al canale, lasciate un like se avete apprezzato il contenuto, condividete questo video con chi pensate possa trarne beneficio, e non dimenticate di lasciare un commento con le vostre riflessioni e suggerimenti. Con il vostro supporto, possiamo continuare a crescere insieme e a creare contenuti che fanno la differenza. Grazie di cuore, e ci vediamo nel prossimo video.